Il questore strinse gli occhi e fissò a Balei. Ma che hai intenzione di fare? Hai tentato uno scherzo del genere ieri, nella cupola di Fastofel, ricordi? Non provarci di nuovo, per carità. Balei a Nui. Lo so, lo so, questore. La prima volta ho sbagliato. E fra sé pensò. Anche la seconda, ma non questa. Non sbaglierò più. Il pensiero si spense come una micropila sotto uno smorzatore positronico. Giudichi da lei questore, disse Balei. Qualcuno si è preso la briga di seminare dei falsi indizi contro di me. Seguiamo questa linea di ragionamento e vediamo dove ci porta. Si provi a chiedere chi può aver seminato quegli indizi. Ovviamente qualcuno che era al corrente del mio passaggio da Williamsburg ieri sera. Va bene, Lì. Ti seguirò. E... chi può essere? Sono stato seguito da un gruppo di medievalisti che mi hanno dato la caccia fuori dalla mensa. Gli ho seminati, o così credevo. Ma... almeno uno mi ha visto passare dalla centrale. Del resto, il motivo per cui sono andato a cacciarmi là dentro è ovvio, no? Per far perdere completamente le mie tracce. Il questore riflettè. Colussi? Era uno degli inseguitori? Vale, Iannui. Va bene. Lo interrogheremo. Se sa veramente qualcosa, gli la tireremo fuori. Che altro posso fare per te, Lì? Aspettare. Almeno per il momento. E non perdere la fiducia in me. Vede il mio punto? Ci sto provando. Il questore si fregò le mani. Quindi, Colussi ti ha visto entrare nella centrale di Williamsburg? Oppure è stato informato da un altro del suo gruppo? Allora, ha deciso di sfruttare la coincidenza per metterti nei guai e mettere fine alle indagini. È questo che vuoi dire? Sì, più o meno. Bene, bene. Il questore cominciava a scaldarsi. Andiamo avanti. Sapeva che tua moglie era un membro della sua organizzazione. Quindi ha immaginato che non avresti sopportato un'indagine approfondita in materia e che ti saresti dimesso piuttosto che combattere contro prove così schiaccianti. A proposito, Lee. Che ne diresti di dare le dimissioni? Metteremo tutto tacere e se le cose si complicassero davvero, per te sarebbe l'ideale. Nemmeno se mi ammazzassero questore. Enderby si strinse nelle spalle. Bene, bene. Dov'ero? Ah, sì. Colussi ha preso l'irraggiatore, magari facendosi aiutare da un complice che lavorava alla centrale. E ha incaricato un altro complice di liquidare Ross-Hemmy. Le dita batterono leggermente sulla scrivania. Non regge, Lee. Non regge. Perché no? Troppo complicato. Troppi complici. Inoltre, Colussi ha un alibi di ferro per la notte e la mattina dell'assassinio a Spacetown. Sai, abbiamo controllato subito. Anche se io ero il solo a conoscere il motivo di quella verifica. Ba, lei disse. Non ho mai detto che a commettere l'omicidio è stato Colussi. Questore, questa è un'aggiunta sua. Non credo neanche che sia un membro importante dell'organizzazione. Ma c'è ugualmente qualcosa di strano in lui. Che cosa? Chiese Enderby sospettoso. Il fatto che sapesse di Jesse. Pensa per caso che si conoscano tutti fra di loro? Non lo so, ma di lei sapeva. Forse la consideravano importante in quanto moglie di un poliziotto. Forse è questa la ragione per cui Colussi se ne ricorda, non ti pare, Balei? Lì, ti dico che l'ho sentito proprio con le mie orecchie. Ed è questa la cosa strana. Jesse non usa il suo nome intero da prima che nascesse Bentley. Non l'ha fatto neanche una volta e in più si è unita ai medievalisti dopo averci rinunciato. Questo lo so per certo. Come mai allora Colussi sapeva che si chiamava Jezabel? Il questore arrossì e si affrettò a dire. «Oh, beh, se si tratta solo di questo, forse ha detto Jesse. Sono stato io raccontando a dire Jezabel per completezza, capisci? Anzi, adesso ne sono sicuro, ha detto Jesse». Questore, fino a un momento fa era sicuro del contrario. L'ho chiesto più di una volta. Il questore alzò la voce. «Non vorrai darmi del bugiardo, vero?» Mi stavo solo chiedendo se Colussi ha parlato davvero. Se non si è inventato tutto lei. Conosce Jesse da vent'anni e sa che il suo nome completo è Jezabel. «Ma stai dando i numeri, amico mio?» «Ah, sì? Dov'era lei dopo colazione? E' rimasto assente da quell'ufficio per circa due ore». «Ma lì? Fai l'interrogatorio a me?» «Può risparmiarsi le risposte. Le conosco già. Era nella centrale di Williamsburg». Il questore si alzò di scatto. La fronte madita di sudore e strane chiazze bianche agli angoli della bocca. «Ma cosa diavolo stai cercando di dire?» «Questore nega di essere andato a Williamsburg». «Agente Balei, sei sospeso. Restituiscimi il distintivo immediatamente». «Non ancora questore. Mi ascolti?» «Non ne ho la minima intenzione. Il colpevole sei tu, Balei. Colpevole come il demonio. E quello che mi convince di più è questo stupido tentativo di far sembrare me, me, quello che cospira ai tuoi danni». L'indignazione era tale che per un momento perse la voce. Poi, dopo aver emesso un verso strozzato, riuscì a dire. «Balei, ti dichiaro in arresto». «No questore», disse Balei duro. «Non ancora. Ho un fulminatore puntato contro di lei e ho tolto la sicura. Non cerchi di fare scherzi, perché ora sono disperato e devo dire ciò che ho da dire. Dopo farà come vuole». Julius Enderby fissò con gli occhi sgranati la bocca maligna del fulminatore nelle mani di Balei. E poi balbettò. «Per questo, per questo ti farò dare vent'anni, Balei. Vent'anni nel livello più basso delle prigioni della città, capito?» Roe Daniel fece un gesto fulminio e afferrò il polso di Balei. «Mi dispiace, ma questo non posso permettertelo, collega Elia», disse tranquillamente il robot. «Non devi fare del male al questore». Per la prima volta da quando Roe Daniel era entrato in città, Enderby gli rivolse la parola direttamente. «Bravo, Daniel, bravo. Tienilo fermo tu. Ricordati la prima legge». Balei disse in fretta. «Non ho intenzione di fargli del male, Daniel. Se riesci a convincerlo a non arrestarmi. Hai promesso di aiutarmi fino alla fine della giornata, ti ricordi? Mi restano quarantacinque minuti». Senza lasciare il polso di Balei, Roe Daniel disse. «Questore, credo che Lee abbia il diritto di parlare. In questo momento mi sono messo in contatto con il dottor Fastoffel e...» «E cosa? Cosa?» Latrò il questore impazzito. «Vede, questore, io posseggo un'unità subeterica autosufficiente. Disse poi il robot. Il questore lo guardò a occhi spalancati. «Ora sono in contatto con il dottor Fastoffel», continuò Rodeniel inesorabile. «E farebbe una brutta figura questore se rifiutasse a Lee il diritto di esprimersi. Ne verrebbero tratte pericolose conclusioni». E in derby ricadde sulla poltrona senza parole. E Balei continuò. «Ho detto che oggi si trovava nella centrale di Williamsburg quest'ore, ed è là che ha preso l'irraggiatore Alfa. Poi lo ha dato a Rosemmi. Ha scelto deliberatamente Williamsburg perché è sospettica ad essere su di me. Poi ha perfino sfruttato la chiamata del dottor Gerrigel per invitarlo al dipartimento. Gli ha dato una bacchetta guasta per farlo finire nel deposito del materiale fotografico, in modo che lui trovassero semmi. Contava su di lui per avere una diagnosi esatta. Balei mise via il fulminatore. «Se vuole farmi arrestare, proceda pure. Ma sappia che Spestown non la prenderà come una risposta interessante». «E quale movente avrei avuto?» Balbettò in derby senza fiato. Aveva gli occhiali appannati e se li tolse. Sembrava un uomo sfocato, impotente senza quegli aggeggi. «Che movente avrei avuto per fare tutto questo, Balei?» «Mettermi nei guai! E ci è riuscito! L'inchiesta sul caso Sarton si sarebbe arenata e poi Rosemmi sapeva veramente troppo!» «A proposito di che, in nome del cielo?» «A proposito di come uno spaziale è stato ucciso cinque giorni e mezzo fa! Perché quest'ore è stato lei a uccidere Sarton a Spacetown!» Fu Rodeniel a parlare per primo. Enderby riusciva solo a stringersi nervosamente i capelli e a scuotere la testa. Il robot disse «Collega Elia, temo che questa teoria sia insostenibile. Per i motivi che sai, è impossibile che questore Enderby abbia ucciso il dottor Sarton!» «Ascolta allora! Ascolta me, Daniel! Enderby mi ha supplicato di interessarmi al caso, evitando di rivolgersi a uomini più esperti e qualificati. L'ha fatto per diverse ragioni. In primo luogo, siamo andati a scuola insieme e lui contava sul fatto che non avrei mai sospettato di un vecchio compagno e uno stimato superiore. La mia ben nota lealtà gli faceva molto comodo. In secondo luogo, sapeva che Jesse faceva parte di un'organizzazione clandestina e sperava di manovrarmi come voleva o di ricattarmi se fossi andato troppo vicino alla verità. Ma di questo non si preoccupava troppo. Fin dall'inizio ha cercato di instillarmi una profonda sfiducia in te, Daniel, in modo che noi due ci pestassimo i piedi anziché collaborare in senso stretto. Sapeva che mio padre è stato declassato e immaginava che il mio terrore fosse di seguirne la sua sorte. Vedi, per un assassino è un enorme vantaggio dirigere le indagini del proprio caso. Il questore ritrovò la voce e disse debolmente. Ma lì, come potevo sapere di Jesse? Poi si volse al robot. E tu? Tu sei veramente in contatto con Spacetown? Di ai tuoi amici che sono solo bugie. Tutte bugie. Bale si intromise d'autorità, alzando la voce per un momento, ma poi tornando a un tono basso e appena un po' teso. Lei sapeva di Jesse perché è un medievalista anche lei, perché fa parte dell'organizzazione. I suoi occhiali antiquati, le sue finestre, chiunque capirebbe da che parte sono le sue simpatie. Ma ci sono prove migliori. Come fece Jesse a sapere che Daniel era un robot? È una cosa che sul momento mi ha lasciato di stucco. Ora sappiamo che fu informata dai suoi amici medievalisti, ma questo sposta solo il problema e non lo risolve. Come fecero a sapere loro? Lei, questore, ha sempre sostenuto che in realtà non era un problema, che qualcuno deve essersi accorto dell'identità di Daniel al negozio di scarpe. Io non ci ho mai creduto. Non potevo crederci. La prima volta che l'ho visto l'ho scambiato io stesso per un essere umano e non c'è niente che non funzioni nei miei occhi. Ieri ho chiesto al dottor Jerrygel di venire qui a Washington. In seguito ho deciso che poteva tornarmi utile sotto più di un aspetto. Ma quando l'ho convocato, il mio unico scopo era vedere se avrebbe riconosciuto Daniel per quello che era senza suggerimenti da parte mia. E pensi un po', questore, non ci è riuscito. L'ho presentato a Daniel, si sono stretti la mano e abbiamo chiacchierato un po'. Ma solo quando la conversazione è scivolata sui robot umanoidi, lui ha iniziato a capire. E sto parlando del dottor Jerrygel, il più grande esperto terrestre di robot. Vuole insinuare che un pugno di ribelli medievalisti, sovraeccitati come erano e nella confusione del negozio, avrebbero potuto far meglio di un grande scienziato? E mettere in moto tutta l'organizzazione solo perché si aveva la sensazione che Daniel fosse un robot. È ovvio che i medievalisti conoscevano l'identità di Daniel fin dall'inizio. L'incidente al negozio di scarpe è stato montato per mostrare a Daniel e tramite lui a Spacetown i profondi sentimenti anti-robot della cittadinanza. Insomma, tutto l'episodio aveva lo scopo di confondere le acque, di distogliere i sospetti dai singoli individui e puntarli sull'intera popolazione di New York. Ora, se i medievalisti conoscevano l'identità di Daniel fin dall'inizio, chi gliel'ha detto? Io no. Dapprima ho pensato che l'informatore fosse Daniel stesso. Ma ormai quella è una storia chiusa. L'unico terrestre oltre a me che sapeva la verità era lei quest'ore. Con sorprendente energia Enderby disse Potrebbero esserci spie nel dipartimento. I medievalisti potrebbero averne piazzate un sacco, sai? Tua moglie fa parte dell'organizzazione. Io ne faccio parte. Quindi perché non altri colleghi? La bocca di Balei si piegò in un sorriso crudele. Non inventiamo cispie misteriose prima di vedere dove ci porta la soluzione più semplice. Io dico che l'informatore più probabile è lei. Ed è lei che ha sparso la voce. ora che ci penso è interessante notare in retrospettiva i suoi alti e bassi d'umore quest'ore. alti quando ero quando ero lontano dalla soluzione e bassi quando facevo qualche progresso. All'inizio lei era molto nervoso. Quando ieri mattina ho deciso di andare a Space Town senza dirle la ragione era praticamente al collasso. pensava che l'avessi inchiodata quest'ore? Lo pensava? Che fosse magari una trappola per darla in pasto al nemico? Lei odia la gente di Space Town. Me l'ha detto senza mezzi termini. E quando sono uscito da questo ufficio era praticamente in lacrime. Per un po' ho creduto che fosse il ricordo delle umiliazioni subite a Space Town quando lei stesso era un indiziato. Ma poi Daniel mi ha detto che la sua sensibilità non era stata in alcun modo ferita. In pratica lei non aveva mai saputo di essere un indiziato. Quindi lo shock di ieri era dovuto alla paura e non all'umiliazione. Poi quando ho esposto al dottor Fastoff e la mia teoria completamente sballata lei che ascoltava al circuito tridimensionale ha capito che ero lontanissimo dalla verità e ha riacquistato la sua fiducia. Ha perfino usato contraddirmi difendendogli spaziali. Dopodiché è tornato padrone di se stesso per un poco. Confesso di essere rimasto sorpreso per la facilità con cui mi perdonava la mostruosa gaff fatta a Spacetown. Soprattutto perché solo poco prima mi aveva ammonito che è indispensabile rispettare la sensibilità di quella gente. la verità è che godeva dell'abbaglio che avevo preso. Poi ho convocato il dottor Gerrigel e lei ha voluto sapere perché mi fossi rivolto a lui. Non ho voluto dirvelo e questo l'ha spinta di nuovo nell'abisso perché temeva Rodaniel alzò improvvisamente la mano. Collega Elia Vale guarda l'orologio 23 42 Cosa c'è Daniel? Forse il panico del questore era dovuto semplicemente al fatto che temeva di vedere scoperti i suoi legami con i medievalisti Ammesso che esistano Non abbiamo nessun elemento per collegarlo all'assassinio del dottor Sarton Non può averci niente a che fare Vale il ribattè Ti sbagli Daniel In derby non sapeva perché avessi chiamato il dottor Gerrigel Ma era logico d'esumere che mi servissero informazioni sui robot Questo ha spaventato il questore Perché nel delitto che aveva commesso un robot giocava una parte importantissima Non è vero quest'ore In derby scosse la testa ferocemente Quando tutto questo sarà finito Non riuscì a dire altro ed emise un suono inarticolato Come è stato commesso l'omicidio chiese chiese Balei dominando a stento la collera Grazie alla CFE maledizione CFE Uso i vostri termini Daniel Siete così accecati dai benefici di una cultura CFE che non vi siete accorti di come un terrestre poteva usarla a suo vantaggio almeno temporaneamente Ora ti spiego Non c'è nessuna difficoltà ad ammettere che un robot possa attraversare l'aperta campagna anche di notte e da solo Il questore mise un fulminatore nelle mani di Ross Hemi e gli disse dove andare E quando toccò in derby di entrare a Spacetown lo fece per l'ingresso ufficiale e fu regolarmente disarmato Ma Robot Sammy lo aspettava Gli diede il fulminatore di scorta e così in derby poteva uccidere il dottor Sarton Poi restituì l'arma a Robot Sammy che la portò attraverso i campi nella città di New York Oggi l'assassino ha chiuso la bocca al suo complice che ormai sapeva troppo Questo spiega tutto la presenza del questore e l'assenza dell'arma del delitto E tutto questo rende inutile fantasticare su un new yorkese umano che percorre un chilometro e mezzo di notte in aperta campagna Ma alla fine della perorazione Rodeniel disse Collega Elia mi dispiace per te ma mi rallegro per il questore La tua storia non spiega niente Ti ho detto che l'analisi celebrale del soggetto fa escludere che possa commettere un omicidio premeditato Non so quale parola della lingua inglese sia più adatta a definire questo particolare aspetto del suo carattere secco d'argia coscienza o pietà Conosco le definizioni di tutte ma non sono in grado di decidere Comunque il questore non ha assassinato nessuno Grazie Daniel grazie Borbottò in derby e poi la sua voce riacquistò forza e autorità Non so quali siano i tuoi scopi Balei e perché stai cercando di rovinarmi in questo modo ma lo scoprirò Un momento un momento disse Balei Non ho finito Ho ancora questo Sbatté il contenitore d'alluminio sulla scrivania di in derby e cercò di trovare la fiducia e la speranza che simulava Da circa mezz'ora nascondeva un piccolo particolare e cioè che non sapeva cosa mostrasse il film Bleffava ma era la sua unica possibilità e in derby si ritrasse improvvisamente che cos'è non è una bomba rispose Bale ironico solo un normalissimo microproiettore e con questo aspetti e vedremo infilò infilò un'unghia in una delle fessure ai lati del cubo e un angolo dell'ufficio del questore scomparve mostrando una scena a tre dimensioni l'immagine andava dal pavimento al soffitto e si estendeva oltre le pareti della stanza la luce che diffondeva di un grigio uniforme era diversa da quella che brillava in città con un misto di disgusto e perversa attrazione Bale pensò questa deve essere la famosa alba il luogo era la cupola del dottor Sarton e il cadavere della vittima orribilmente sfigurato occupava il centro della stanza e in derby guardava con gli occhi strabuzzati poi Bale disse so che il questore non è un assassino Daniel non hai bisogno di dimostrarmelo se avesse afferrato prima quell'unico particolare avrei ottenuto la soluzione da molto tempo ma la verità è che non ho capito fino a un'ora fa quando ho ricordato casualmente che le lente a contatto di Bentley ti avevano incuriosito è così quest'ore per associazione di idee ho pensato alla sua miopia e ho capito che la chiave di tutto erano gli occhiali sui mondi esterni la miopia non esiste suppongo o gli spaziali avrebbero intuito subito la verità quando le si sono rotti gli occhiali esattamente in derby salto su che cosa vuoi dire la prima volta che mi ha parlato del caso mi ha detto di aver rotto gli occhiali a spacetown io subito ho pensato che l'incidente fosse dovuto alla sua agitazione mentre le comunicavano la notizia del delitto in realtà lei non ha mai detto questo e io non avevo ragione di pensarla così la verità è che se lei stava entrando a spacetown con l'intenzione di commettere un crimine con tutta probabilità era abbastanza nervoso per romperli prima del delitto non è andata così? Rodaniel disse non vedo il punto collega Elia Balei pensò sarò il tuo collega per dieci minuti ancora non posso perdere tempo devo pensare in fretta parlare in fretta nel frattempo aveva orientato l'immagine della cupola di Sarton ora la ingrandì con le dita che gli tremavano per la tensione il cadavere diventò più vasto più vicino più massiccio a Balei sembrava di sentire l'odore della carne bruciata la testa le spalle e un avambraccio avevano un'inclinazione grottesca ed erano uniti alla schiena e alle gambe da un semplice rimasuglio di spina dorsale da cui sporgevano moncherini di costole annerite Balei dette un'occhiata al questore che aveva chiuso gli occhi aveva un'aria spaventosa anche Balei si sentiva male ma doveva guardare manovrando i comandi fece ruotare l'immagine tridimensionale e mise a fuoco una serie di inquadrature successive e rettangoli di pavimento intorno al cadavere l'unghia con cui regolava i comandi scivolò e l'immagine si trasformò in un caos di particolari confusi che sfuggivano al potere di risoluzione del proiettore Balei diminuì l'ingrandimento e fece scivolare di lato l'immagine del cadavere ora di nuovo distinguibile sul pavimento e intanto parlava doveva parlare fino a quando non avesse trovato quel che stava cercando e se non l'avesse trovato tutte le sue parole sarebbero state inutili peggio che inutili il cuore gli batteva forte la testa pulsava il questore non è capace di commettere un omicidio volontario d'accordo volontario ma chiunque può uccidere per sbaglio in derby non è entrato Spacetown con l'intento di ammazzare il dottor Sarton era venuto a eliminare te Daniel te scommetto che il suo carattere non gli vieta di danneggiare una macchina non è omicidio è solo sabotaggio il questore è un medievalista uno dei più convinti ha lavorato con il dottor Sarton e conosceva lo scopo a cui eri destinato Daniel temeva che il vostro obiettivo fosse raggiunto e che i terrestri in definitiva avrebbero perduto il loro pianeta per questo Daniel ha deciso di distruggerti eri l'unico modello del tuo tipo e in derby pensava che mostrando agli spaziali la determinazione dei terrestri voi avreste abbandonato il progetto sapeva inoltre che sui mondi esterni ci sono fazioni contrarie al mantenimento di Spacetown e si augurava di metter fine anche a questo il dottor Sarton deve avergli dato molte informazioni in derby ha pensato che un sabotaggio come quello che intendeva compiere sarebbe stata la goccia che faceva traboccare il vaso non dico che il pensiero di eliminare te Daniel gli riuscisse particolarmente gradevole in derby avrebbe lasciato l'incarico a Rosemmi molto volentieri ma tu somigliavi talmente a un essere umano che un modello primitivo come Rosemmi non avrebbe saputo cogliere le differenze di conseguenza la prima legge lo avrebbe bloccato né l'incarico poteva essere affidato a un killer perché l'unico ad avere accesso a Spacetown in qualunque momento era proprio in derby ora ricostruirò il piano del questore sono solo supposizioni d'accordo ma credo di esserci andato molto vicino ha preso appuntamento con il dottor Sarton ma è arrivato in anticipo all'alba per l'esattezza a quell'ora Sarton dormiva ma tu saresti stato sveglio fra l'altro presumo che tu vivessi a casa del dottor Sarton Daniel il robot annui hai ragione collega Elia allora lasciami continuare saresti andato ad aprire la porta e avresti ricevuto una scarica mortale al petto o alla testa e per te sarebbe finita poi Enderby sarebbe fuggito attraverso le strade deserte di Spacetown avrebbe raggiunto Rosemmi nel posto convenuto e gli avrebbe consegnato l'arma del delitto quindi finalmente sarebbe tornato a casa del dottor Sarton con tutta comodità se necessario avrebbe scoperto il corpo di persona ma l'ideale sarebbe stato che lo facesse un altro una volta arrivato e nel caso che l'interrogassero avrebbe risposto che era venuto per informare Sarton di un imminente attacco mediovalista a Spacetown e invitarlo a prendere le misure necessarie a evitare uno scontro diretto fra terrestri e spaziali il robot morto avrebbe suffragato la sua ipotesi però quest'ore qualcuno avrebbe potuto chiederle cosa avesse fatto nel lungo intervallo fra l'arrivo a Spacetown e il momento in cui aveva messo piede in casa di Sarton lei avrebbe potuto rispondere vediamo cosa avrebbe potuto rispondere certo che aveva visto qualcuno scivolare nelle strade e dirigersi verso i campi e in più poteva aggiungere che l'aveva pure inseguito avrebbe potuto metterli su una falsa pista e a quanto robot semi nessuno li avrebbe fatto caso in aperta campagna tra le fattorie automatiche un robot è solo uno dei tanti ci sono andato vicino quest'ore e in derby sussultò io io non no disse Bale lei non ha ucciso Daniel infatti è qui tra noi ma da quando ha messo piede in città lei non è stato capace né di guardarlo e né di chiamarlo per nome una sola volta lo guardi ora quest'ore lo guardi l'accusato non ci riuscì e si coprì la faccia con le mani che tremavano anche le mani di Bale tremavano il microproiettore quasi gli cadde aveva trovato quello che cercava l'inquadratura mostrava la porta di casa Sarton era aperta l'avevano fatta scivolare sulle lucenti scanalature metalliche finché non era rientrata nell'apposito ricettacolo a muro guardando meglio le scanalature sul pavimento ecco ecco lo scintillio era inconfondibile ora le dirò che cosa è successo disse Balei lei quest'ore si trovava davanti alla porta di Sarton quando si sono rotti gli occhiali evidentemente era nervoso e ho notato che quando è agitato ha l'abitudine di toglierseli continuamente e l'ha fatto anche là ma le mani le tremavano e le sono caduti forse gli ha addirittura calpestati a ogni modo si sono rotti e in quel momento la porta si è aperta e un uomo che assomigliava a Sarton le si è parato davanti gli ha sparato ha raccolto i resti degli occhiali ed è fuggito il corpo è stato trovato dagli spaziali non da lei e quando l'hanno informata ha scoperto di aver eliminato non Daniel ma il promettente dottor Sarton per sua sfortuna Sarton aveva fabbricato un robot a propria immagine lei senza occhiali e in preda al nervosismo non è riuscito a distinguerli e se cerca una prova concreta è proprio lì l'immagine della cupola tremò e Bale mise il proiettore sulla scrivania proteggendolo con la mano la faccia del questore era distorta dal terrore quella di Bale dalla tensione però Daniel sembrava indifferente Bale indicò l'immagine lo scintillio nelle scanalature della porta che cos'era Daniel due schegge di vetro molto piccole disse freddamente il robot per noi non significavano niente ora è diverso sono porzioni di lenti concave misurate le proprietà ottiche e confrontatene con quelle degli occhiali di Enderby che porta adesso non li fracassi quest'ore non li fracassi si avventò sul superiore e gli strappò gli occhiali di mano poi ansimando li porse a Rod Daniel questa è la prova che è arrivato alla cupola di Sartone in anticipo Rod Daniel disse sono convinto e mi rendo conto che la faccenda della celebro analisi mi ha completamente depistato mi congratulo con te collega Elia l'orologio di Balei segnava le 24 un nuovo giorno stava per cominciare lentamente il questore abbassò la testa sulle braccia più che parole riusciva a emettere una serie di singhiozi è stato uno sbaglio è stato uno sbaglio un grande sbaglio non volevo ucciderlo io non volevo poi senza che gli altri due se l'aspettassero scivolò dalla poltrona e giacque sul pavimento come un fagotto Rod Daniel gli si avvicinò immediatamente l'hai danneggiato Elia non dovevi non è morto vero? no non è morto ma ha perso i sensi li riprenderà la tensione è stata troppa ma non avevo altro mezzo non avevo nessuna prova da esibire a una corte solo supposizioni dovevo premere su di lui premere finché non fosse crollato e così è stato Daniel hai sentito anche tu la confessione vero? sì l'ho sentita anch'io collega Elia ti avevo promesso che la soluzione avrebbe avuto conseguenze favorevoli anche per il progetto Spacetown ma aspetta aspetta un attimo che sta rinvenendo il questore gemette gli occhi batterono e si aprirono poi guardò i due senza una parola Balei chiese questore mi sente? in derby annui vagamente va bene gli spaziali hanno altro per la testa che denunciare lei sempre che prometta di collaborare con loro cosa? cosa stai dicendo lì? negli occhi del questore si è accesa una scintilla di speranza penso che lei sia un pezzo grosso nell'organizzazione mediovalista di New York forse è un pezzo grosso a livello planetario lei deve influenzare i suoi amici a favore della colonizzazione spaziale è superfluo che le suggerisca lo slogan vero? torneremo alla terra ma su altri mondi non sto capendo lì non capisco borbottò al questore è l'obiettivo degli spaziali e che Dio mi aiuti è anche il mio obiettivo adesso tutto merito di una piccola conversazione con il dottor Fastoffel questa è la meta di Spacetown i suoi abitanti rischiano la vita venendo sulla terra ma ci rimangono per portare avanti il progetto se l'assassinio del dottor Sarton servirà a permettere che i medievalisti tramite il suo intervento si indirizzi verso la colonizzazione della galassia gli spaziali lo considereranno un sacrificio di cui è valsa la pena capisce ora? Rodaniel disse Elia ha ragione ci aiuti quest'ore e dimenticheremo il passato parlo per conto del dottor Fastoffel e della nostra gente naturalmente se ora accetta di aiutarci e in seguito ci tradirà noi dimostreremo la sua colpevolezza nell'omicidio del dottor Sarton spero che capisca anche questo per doloroso che sia doverne parlare ma ma non mi processerete? chiese Enderby no se ci aiuterà gli occhi del questore si riempirono di lacrime lo farò lo farò è stato solo un incidente è stato un grosso incidente spiegateglielo spiegateglielo per favore è stato solo un incidente ho fatto solo quello che ritenevo giusto Balei disse aiutandoci farà davvero la cosa giusta la colonizzazione dello spazio è l'unica salvezza per la terra se ne renderà conto se ci riflette senza pregiudizi e se pensa di non riuscirci beh faccia quattro chiacchiere col dottor Fastofer il primo atto positivo sarà concludere l'inchiesta su Robot Sammy dica che è stato un incidente o qualcosa di simile ma che non se ne parli più Balei si è rimisa in piedi e ricordi questore io non sono il solo che conosce la verità liberarsi di me la rovinerebbe tutta Space Town sa di questo se ne rende conto vero? intervennero Daniel basta così Elia il questore è sincero e coopererà la cerebroanalisi me l'ha appena rivelato va bene allora vado a casa voglio rivedere Jesse e Bentley e tornare a un'esistenza normale e voglio tanto dormire Daniel tu resterai sulla terra quando gli spaziali se ne saranno andati? Rodaniel disse non mi hanno ancora informato perché me lo chiedi? Balei si morse le labbra e poi non credo che lo direi a un altro robot Daniel ma mi fido di te ho perfino imparato ad ammirarti sono troppo vecchio per lasciare la terra personalmente ma quando le scuole di emigrazione verranno aperte ci manderò Bentley e magari un giorno Bentley e tu magari collega Lia magari la faccia di Rodaniel era impassibile poi il robot si voltò verso Julius in derby che li fissava con un viso flaccido in cui tornava ad apparire un po' di colore e il robot disse sto cercando di assimilare amico Julius alcune idee che Lia mi ha trasmesso in questi giorni e forse ci riuscirò perché all'improvviso mi pare di capire che l'estirpazione di ciò che non deve essere ossia ciò che voi uomini chiamate il male è meno giusta e desiderabile della sua trasformazione in ciò che voi chiamate il bene esitò poi come sorpreso delle sue stesse parole disse vai e non peccare più vale e sorrise presero Daniel per il gomito e uscirono insieme braccio sotto braccio fine per il gomito per il gomito non ciò si Grazie a tutti